Il percorso che ci ha portato ad arrivare a questi risultati internazionali è che nelle ultime quattro Olimpiadi ci hanno portato ad avere sempre un podio e questo ha dato forza ai nostri atleti, nel senso che i nostri tre rappresentanti erano forse l'unica squadra che metteva insieme tre tiratori che avevano già vinto medaglie olimpiche e che oltre ad avere così un valore intrinseco dava agli stessi atleti la possibilità di dire io questa esperienza l'ho già vissuta, so già cosa significa essere sotto l'occhio delle telecamere, l'occhio del mondo e quindi hanno tirato credo con un pochino più di tranquillità di altri che erano la loro prima esperienza di quel tipo. Riviviamo un po' le emozioni di quei momenti che Sante Spigarelli ha vissuto da opinionista in televisione quindi mischiando la sua competenza con il cuore che batteva, il Lord's Cricket Ground completamente esaurito, davvero una cornice alla favola. Sì, direi che come fatto di prestigio probabilmente le altre sedi precedenti tipo Atene era più emozionante, anche per noi latini, cioè il teatro greco o comunque lo scenario greco, lo stadio olimpico greco era ancora più bello. Per gli inglesi, gli anglosassoni, il cricket è un altro tempio, per noi meno sentito devo dire, anche perché di fatto poi all'interno dello stadio del cricket era stato creato un altro stadio che era quello del tiro con l'arco, però detto questo tribune piene, entusiasmo alle stelle, televisione ovviamente è presente in tutti i momenti, hanno creato tutta quella tensione che è sempre intorno all'evento olimpico, alla finale in un col di più. Il vento alla vigilia era uno di quegli elementi che si temevano proprio per la variabilità, effettivamente è stato così, possiamo analizzare il risultato non solo alla luce dell'oro a squadre ma poi di quello che è stato il risultato invece individuale dei nostri ragazzi che, Gagliazzo ma non solo lui, hanno battito un po' questa incidenza del vento che, se non sbaglio, nella gara a squadre è stato praticamente nullo e invece ha inciso particolarmente quando poi hanno rigareggiato nei giorni successivi. Ti ringrazio di questa domanda perché nell'immediato dopo la gara non se ne è parlato quasi per niente, come se questo elemento, il vento, che è così importante per gli aceri non ci fosse stato. In realtà vivendo lì l'esperienza in diretta, sia sul campo in alcuni momenti che poi facendo le cronache, però avendo occhio a questi aspetti, il vento è stato il grande protagonista degli scontri, specialmente quelli individuali, nonché anche la pioggia era un giorno, dove noi non avevamo però nessuno in gara. Lo stadio del cricket era stato diviso in zone, c'era una zona a sinistra dei bersagli dove c'era il campo di riscaldamento e che era molto aperta, dove i nostri atleti, tutti gli atleti, hanno fatto praticamente i mirini. Dopodiché si passava all'interno del catino, che era diviso in due parti, la parte dove c'erano le tribune, quindi con un vento che scavalcava le tribune e arrivava sugli arcieri dando a loro delle percezioni, che sono quelle che poi si utilizzano prevalentemente come percezioni, oltre alle bandierine che danno l'indicazione. arrivava in un certo modo, dopodiché le frecce, superate le tribune, avevano circa 30 metri di spazio vuoto, dove c'era un altro vento. Allora, che cosa è successo? E se chi ha seguito o è interessato va a rivedersi tutti i filmati delle gare. È successo che chi è arrivato dal campo di allenamento e ha tirato le prime frecce andando immediatamente nel centro, non ha avuto problemi particolari. Mentre invece chi è arrivato sul campo di gara, ha sbagliato una freccia, con il vento che c'era, non sapeva più dove mirare, nel senso che, dato che si contromira in queste condizioni, la freccia sbagliata, a destra e a sinistra, che era un errore dovuto non all'arciere ma al vento, ha creato delle situazioni di difficoltà, tali che io non avevo mai visto in 40 anni un coreano girarsi e chiedere consiglio per 10 dei 20 secondi che ha disponibili per tirare al suo tecnico. Girarsi ogni volta, ogni freccia e dire che devo fare, dove devo mirare, che cosa devo fare, perché tirava il coreano che ha saputo il doppio record mondiale, che poi è uscito, non sapeva dove mirare, dove contromirare e quindi il vento è stato veramente il grande protagonista dei momenti in cui ovviamente c'era e tantissimi grandi campioni, dal coreano, da Uish, da tanti grandi campioni hanno perso, sono usciti per freccia a destra e a sinistra, se andiamo ad analizzare tutti gli errori, tutti i frecci a destra e a sinistra, quindi errori relativi, errori di valutazione su dove Benedetto Mirino mettere per tirare la freccia, ovviamente nel poco tempo disponibile. Chiuderei con una valutazione anche tecnica invece sulla qualità infrastrutturale italiana. Spigarelli è un marchio, insomma, non solo per chi vive il tiro con l'arco, ma per chiunque lo guarda anche da fuori. Si è parlato molto della capacità dell'Italia di arrivare anche a questi olimpiadi con l'attrezzatura migliore, anche quindi con investimenti importanti nella ricerca, nel migliorare giorno dopo giorno. Si è parlato della macchina messa a punto anche con il contributo della Ferrari, della spara freccia, insomma, da questo punto di vista la federazione ha investito e ha investito bene. Sì, diciamo che non si arriva all'ultimo momento e si inventano le cose. Questo è un percorso lungo, è un percorso che nasce con un centro tecnico, nasce con un ultimo centro tecnico, perché io ho per fortuna la memoria del primo centro tecnico italiano a Brisichella, poi c'è stata Roma, poi c'è stata Tirrenia, poi c'è stato un altro centro tecnico, quindi piano piano queste cose sono state affinate. Sul piano dell'organizzazione logistica, sul piano dell'organizzazione pratica, sicuramente un ultimo contributo è avvenuto dall'impegno che la Ferrari e il Coni hanno messo anche nei nostri confronti, ma credo che in quel settore ne avremo di meglio informi, perché lì c'è stato un approccio, il futuro sarà ancora più importante in quell'impegno e da quello potremmo trarre ulteriori benefici. Nel frattempo sicuramente i materiali, la ricerca, la disponibilità dei materiali hanno contribuito al risultato. Un'ultima battuta, il presente è d'oro, ma il futuro è assicurato, ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, anche in questi campionati numero 51 a Cherasco e sono il futuro della federazione. Lo sono sempre state, il futuro. L'importante è che non gli si faccia spazio sempre e comunque. Io da atleta ho subito in qualche modo, io e Ferrari che adesso vedo lì tra noi, ho subito sempre nell'ambito del Consiglio federale, sempre Ferrari e Spigliari, non ci sono i nuovi, i nuovi hanno tutto, nel tiro con l'arco hanno tutte le possibilità aperte, devono soltanto dimostrare di essere più forti di quelli che ci sono in questo momento e chiaramente sono il nostro futuro, ma io sono molto, come dire, selettivo. Hanno tutti gli spazi aperti, facciano, gli altri non fanno altro che correre più avanti, più forte se ci riescono, altrimenti vengono ripresi e superati. Grazie. 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 Grazie.